Non si hanno certezze sulla apertura del centro per l'autismo di Avellino. Il direttore generale della ASL rompe il silenzio durato alcune settimane e alla richiesta del sindaco di Avellino, festa di disporre il sopralluogo per verificare l'idoneità sanitaria e funzionale della struttura, risponde sostanzialmente spedendo la palla in tribuna. Ferrante infatti propone la costituzione dell'ennesimo tavolo presso la prefettura con tutti i portatori di interesse, famiglie, associazioni, sindaco di Avellino per definire le tappe che porteranno all'apertura del centro. Non si capisce bene di quali tappe si dovrebbe discutere nell'ennesima messa cantata che viene proposta. La stessa ASL da tempo ha definito nel dettaglio come funzionerà il centro. Sembrava un punto fermo sul quale hanno peraltro convenuto le famiglie e le associazioni. Un tavolo dunque in prefettura per fare cosa? Il nodo da sciogliere resta la proprietà del suolo che sta diventando però un alibi perfetto per allungare il brodo. L'acquisizione sanante del comune è alla portata e in attesa che si concretizzi, la ASL, anziché portarsi avanti con il lavoro per organizzare le attività del centro, sceglie la strada delle chiacchiere. Come abbiamo già sospettato ci deve essere qualcos'altro che prima o poi si accettano scommesse verrà alla luce.